Benvenuti, appassionati del Paradiso delle Signore Otto. Oggi ci immergiamo nelle anticipazioni più succose della settimana, dal 2 al 5 aprile. Siete pronti a scoprire i turbolenti sviluppi tra Vittorio e Marta? Preparatevi, perché le sorprese non mancheranno. La notizia bomba è servita. Vittorio Conti e Marta Guarnieri, contro ogni aspettativa, scoprono di essere ancora legati da vincoli matrimoniali. Una rivelazione che getta ombre e luci sul loro rapporto. Ormai creduto appartenere al passato, ma il destino, capriccioso e imprevedibile, ha in serbo per loro un percorso che nessuno avrebbe potuto anticipare. Il cuore della nostra storia si concentra sull'annullamento delle nozze, un processo che si preannuncia tortuoso e pieno di ostacoli. Vittorio e Marta sono costretti a rivivere i momenti più intensi e significativi della loro unione. Un viaggio a ritroso nel tempo che non lascia indifferente Matilde, la quale osserva con crescente apprensione l'intensificarsi dei rapporti tra i due. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche, così non perderete mai le nostre analisi e anticipazioni. Marta Guarnieri si trova di fronte a un bivio emotivo. Da un lato, l'amore mai sopito per Vittorio. Dall'altro, la necessità di reprimere i sentimenti in un momento così delicato. Il procedimento per l'annullamento si rivela più complesso del previsto, portando Marta e Vittorio a frequentarsi con una continuità che riaccende vecchie fiamme. Vittorio, dal canto suo, lotta con la tentazione di celare a Matilde Frigerio le vere difficoltà dell'annullamento. Una decisione che lo porta a riflettere sulla natura dei suoi sentimenti, confuso tra passato e presente. È il momento di confrontarsi con Roberto, alla ricerca di consigli. Nel frattempo, Don Saverio, osservatore attento delle dinamiche tra Marta e Vittorio, intuisce la persistenza di un legame profondo. Decide così di intervenire, sperando di riaccendere la scintilla tra i due prima di procedere con una decisione tanto definitiva come l'annullamento. E voi, cari spettatori, che ne pensate? Don Saverio riuscirà nel suo intento di riunire Marta e Vittorio? La loro storia merita un nuovo capitolo? O è giusto voltare pagina? Adesso voglio sentire la vostra opinione. Credete che Marta e Vittorio dovrebbero dare una seconda chance al loro amore? O è il momento di andare avanti, per entrambi? Lasciate i vostri pensieri nei commenti. Ricordatevi di lasciare un like se siete ansiosi di scoprire cosa accadrà nella prossima settimana e iscrivetevi al canale se volete continuare a navigare insieme a noi nelle storie del Paradiso delle Signore. In questa intricata tela di sentimenti, segreti e decisioni, Marta e Vittorio si trovano a un crocevia. Il loro futuro è incerto, ma una cosa è chiara. Il viaggio che stanno per intraprendere cambierà per sempre le loro vite. Per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo!